Se volete acquistare crediti passate da vipcoinsfifa.com, veloce, sicuro e affidabile e con il coupon MOLATI15 avrete il 5% di crediti in più. Bella a tutti ragazzi, io sono Mark Eid, lo staff di Neolati di Foot e sono qui oggi a portarvi la recensione di Kenin Form, attaccante del Tottenham, protagonista di una stagione strepitosa, infatti si è guadagnato una carta upgrade nel mese di gennaio e ora ha avuto una terza carta in form grazie alla tripletta effettuata nell'ultima giornata di campionato. Questa carta presenta un 77 di velocità, 85 di tiro, 72 di passaggio, 78 di dribbling, 39 di difesa e 78 di fisico. Le statistiche che spiccano sono l'89 di potenza tiro, l'85 nel long shot, l'85 di posizionamento e l'83 di finalizzazione. Partiamo come al solito dalla velocità, 77 sulla carta che si divide in un 73 di accelerazione, infatti si sente che il suo primo passo è un po' lento, ma se si troverà in campo aperto con il 79 di velocità scatto sarà molto difficile da fermare. Aiutato anche dal 76 di forza fisica che mi è piaciuta perché tiene molto bene le spallate di difensori, infatti non sarà così semplice da fermare, solo dopo due o tre spallate riusciranno a fermarlo i difensori. Passiamo al tiro, 85 sulla carta diviso in un 83 di finalizzazione, che è un pro, sbaglio pochissimi gol davanti alla porta, anche se a tre stelle piede debole non mi hanno creato questi grandi problemi. Poi abbiamo un 79 di tiro a giro, niente di che diciamo nella media insomma, 85 di long shot, statistica molto alta per un attaccante così alto, ma purtroppo non sono mai riuscito a far gol dalla distanza, anche se sono sempre stati pericolosi, i tiri hanno sempre impensati i portieri avversari. Invece l'89 di potenza tira un altro pro di Kane, perché tira delle bombe sia da fuori che da dentro l'area, buca veramente le mani ai portieri questo giocatore. Parliamo un attimo del colpo di testa, Parliamo anche questo perché è alto 1,88 con un buon 80 di salto, 82 di precisione testa, aiutato dall'85 di posizionamento, infatti quando le vostre ricorseranno lui si troverà sempre nel posto giusto, nel momento giusto per colpirla di testa. Passiamo al dribbling 78 sulla carta, con 76 di dribbling poor, che mi è piaciuto, infatti corre destra e sinistra non è un contro, aiutato anche dall'82 di controllo palla, che è un'ottima statistica, ma purtroppo non mi è piaciuto il 74 di agilità, che è un contro, penso il più grande di Kane, perché mi è sembrato un po' macchinoso nel girarsi un po' troppo. Altro contro sono le 3 stelle skill, che non vi consiglio assolutamente di fare skill con questo giocatore, sono troppo lente. Ultima statistica che analizziamo è il 72 di passaggio, con 79 di passaggio corto, 51 di passaggio lungo, con 82 di divisione. Insomma diciamo che il passaggio non è nulla di speciale, però mi è piaciuto molto far rispondere per gli altri giocatori con Kane. Bene ragazzi, la recensione è terminata, ripiloghiamo un attimo pro e contro di questo giocatore. Come pro abbiamo potenza tiro, finalizzazione e colpito di testa, contro l'agilità alle 3 stelle skill. Il voto finale che gli ho dato è un 7, perché Kane sì è un ottimo giocatore, però 60.000 crediti sono troppi, in BPL potete trovare attaccanti come Dico Costa, Wampers, Tif, Falcao, che rendono uguale o anche di più. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, qui è tutto da Marche in Bella.